dei tempi possiamo dire, però in realtà una normativa vera e propria non era mai stata posta in essere, oddio anche la nostra Costituzione fa riferimento a quello che è l'atto illecito nei confronti di inviterzi, quindi vari articoli perché vietano oppure limitano la libertà altrui sotto vari punti di vista, però siamo dovuti arrivare addirittura a quasi 3-4 anni fa per una normativa che in un certo senso mette un po' di ordine in tutto quello che era il disordine in merito a questi atti. Una normativa che viene fuori anche da quelli che sono, diciamo così, le novità mano a mano dei tempi perché al bullismo si è passati come ben sappiamo al cyberbullismo con questi peneretti cellulari e pc che hanno questo doppio risvolto negativo positivo e dopo eventi di cronaca molto molto strazianti si è giunti ad una legge, la legge 71 del 2017 che in un certo senso regolamenta un po' il tutto anche se anche questa legge va rilista perché ci sono ancora delle cose da sistemare, ecco diciamo così, dicendo in maniera un pochettino molto molto più semplificata. Questa legge prevede che ci siano ad esempio delle figure prima sconosciute fino a tre anni fa che sono quali dei referenti per il bullismo per le varie scuole. Infatti io, la professoressa Mato, sono referente per il bullismo per le varie scuole, infatti io, la professoressa Mato, sono referente per il bullismo per le varie scuole.